E' la gelosia? Il giornale dei misteri. Don Giuseppe Gervasini. Domanda. E' la gelosia questo sentimento così terribile? Don Giuseppe. Non esisterà più? Domanda. Una bella civiltà. Don Giuseppe. Siamo molto lontani dal vedere questo. E voi ancora tutti farete in tempo a conoscere la dimensione nella quale io sto prima che questo avvenga. Quindi passerà ancora prima molto e molto tempo. Ma vi sono tuttora al mondo dei popoli chiamati primitivi e sono pochissimi che vivono in questa maniera da me descritta. Sono chiamati dalla realtà vostra moderna uomini della pietra. Io credo che forse l'uomo moderno avrebbe molto da imparare da questi uomini umili primitivi che però sentono molto il loro spirito e il loro intuito e lo seguono con purezza senza ombra di peccato. Assolutamente. Questi avrebbero molto da insegnare all'uomo per quanto riguarda lo spirito e vengono combattuti. Domanda. Ti stai riferendo a certe comunità primitive come ce ne sono in Amazzonia dove sono andati i missionari che gli hanno insegnato il concetto di peccato e gli hanno messo le mutande dicendo che facevano peccato? Don Giuseppe. Certo anche.